Presidente De Castro, siamo alla vigilia del voto qui a Strasburgo sulla riforma della PAC. Quali sono le novità in arrivo? Moltissime. Sappiamo che la proposta che abbiamo discusso in questi mesi della Commissione, la proposta di Dacia Anciolos, è una proposta che ha lasciato molti agricoltori italiani ed europei preoccupati, preoccupati per l'aumento della burocrazia, per il rischio di comportare più costi di produzione alle imprese, un percorso opposto a quello che abbiamo sempre chiesto alla Commissione, cioè sburocratizzare e rendere più facile la vita agli agricoltori. Noi siamo a favore del greening proposto dalla Commissione, cioè un'agricoltura più vicina all'ambiente, più attenta alle pratiche sostenibili, ma bisogna che questo greening sia facilmente applicabile, che non ha gravi costi di produzione delle imprese, che non mette in condizioni gli Stati membri di dover costruire dei strumenti di controllo costosi e magari che aumentano la burocrazia già tanto presente nelle campagne. Quindi noi abbiamo preparato una controproposta, la Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, che mi onoro di presiedere, ha fatto un lavoro molto accurato nei quattro dossier legislativi e stiamo oramai vicini al voto finale, il 23-24 novembre finiremo questo lunghissimo percorso. Voglio ricordare che sono stati presentati quasi 8.000 emendamenti, record nella storia del Parlamento Europeo, ma i nostri relatori hanno lavorato molto bene, siamo riusciti a racchiudere in pochi emendamenti di compromesso tutte le sensibilità diverse dei gruppi politici della Commissione e io mi auguro che il 23-24 avremo una larga maggioranza a supporto di questi emendamenti all'insegna di tre parole chiave, meno burocrazia, più semplicità nelle misure applicative e soprattutto più strumenti che aiutino le imprese a essere più forti e competitive, quindi strumenti di gestione del rischio, maggiore flessibilità agli Stati membri perché l'Europa non è tutta uguale, le agricolture europee sono 27, anzi 28 con la Croazia, abbiamo bisogno che ci sia una certa flessibilità applicativa e poi ovviamente un'attenzione particolare alle misure di gestione del mercato, visto che siamo in un'epoca di crisi, di prezzi volatili, dobbiamo mettere in condizione gli agricoltori di vivere in un'epoca di maggiore incertezza qual è quella in cui ci troviamo. Siamo vicini alla scadenza in cui le regioni, i paesi, i membri devono dimostrare di aver speso i denari dell'Unione Europea. Ci sono alcuni paesi che rischiano di perdere parecchi milioni di euro, questo meccanismo rimarrà uguale nel futuro? No, e anzi è una novità importante che stiamo introducendo in questa riforma della PAC, l'avevamo già fatto nei testi legislativi di allineamento a Lisbona, ma che riprenderemo all'interno della politica agricola comune, della riforma, e cioè stiamo creando un meccanismo di disimpegno nazionale e non più un disimpegno regionale. Che vuol dire? Vuol dire che gli stati membri come l'Italia, che hanno i piani di sviluppo rurale su base regionale, lì dove non si riescono a spendere i soldi, rischio che quest'anno effettivamente c'è in alcune regioni d'Italia, bene, questi soldi non spesi non torneranno più a Bruxelles, non torneranno più a Bruxelles, ma andranno a Roma, dove attraverso un piano finanziario nazionale, lo Stato membro, l'Italia in questo caso, potrà redistribuirli alle regioni che invece sono state più brave, che hanno speso in maniera più rapida tutti i soldi, e sono andate, come si dice, in overbooking e quindi potranno attingere a queste risorse non spese delle altre regioni italiane. Quindi un meccanismo che dovrebbe far scattare la competitività fra le regioni italiane, però fra le regioni italiane che non riescono a spendere questi soldi purtroppo c'è anche la Sardegna che rischia di perdere oltre 50 milioni di euro e la Sardegna fra l'altro ha grossi problemi di ripresa, l'industria è fallita, possiamo pensare a un futuro nella campagna? Io come sa sono affezionato alla Sardegna, dove ho trascorso più di 5 anni della mia vita, all'Università di Sassari. La Sardegna ha delle peculiarità, che sono peculiarità straordinarie legate a una insularità vera, la vera unica nostra grande isola. Questo ci dà la possibilità di imprimere ai prodotti del Made in Italy sardo dei concetti di distintività, delle caratteristiche distintive che difficilmente altre regioni italiane hanno. Naturalmente per poterlo fare occorre non solo avere i prodotti di qualità che pure la Sardegna ha, penso al formaggio, non solo al pecorino romano ma anche ai tanti formaggi molli che sono stati in questi ultimi anni promossi ma penso anche a tanto del settore ortofrutticolo, penso al settore anche del vino che ha avuto un successo tra l'altro importante, anzi è uno dei casi di successo della Sardegna. Ecco, puntare di più su alcuni concetti tipici di un'isola che è sicuramente meno inquinata, che ha un valore simbolico rispetto a altre regioni italiane molto forte dal punto di vista proprio delle tematiche ambientali, dell'agricoltura biologica, dell'agricoltura organica, insomma un'agricoltura è un prodotto alimentare che riesce a trasferire questi valori immateriali al consumatore naturalmente facendoseli pagare. e qui c'è bisogno di imprenditori e c'è bisogno ovviamente di capacità commerciale, organizzativa, di marketing che ovviamente non è sempre facile trovare.